E' una lista fatta prevalentemente da professionisti, da persone, alcune nuove alla politica attiva, altre che invece hanno già avuto una esperienza amministrativa dove hanno dimostrato competenza e passione. E io mi aspetto che questa competenza, questa passione, venga trascusa anche in questa campagna elettorale e nella futura amministrazione. E' una lista che fa ricevimento all'onorevole Giambiero Zinti, il quale è qui con noi e questo è un segnale molto forte. Voglio ringraziare tutti i candidati, quelli presenti, anche quelli assenti e giustificati, loro rappresentano una realtà importante per Marta Ness. Intanto perché, come potete vedere ad occhio nudo, la squadra è di grande qualità, dalle donne agli uomini, dai più giovani ai più esperti, ci sono tante competenze che siamo usciti a mettere insieme. Lo abbiamo fatto perché crediamo fortemente che si possa amministrare una comunità soltanto se la si conosce a fondo e soprattutto se si hanno grandi motivazioni miste a preparazione, competenza e grande senso di responsabilità.